Ma come fai a capire quando un format è giusto? Ne provi 10, 15 diversi e poi vedi quale è che va di più? Cioè come funziona? Studio del target, del non lo so, immagino. E certo, allora si fa uno studio del target innanzitutto di a chi vuoi arrivare. E poi il discorso è anche questo, un consulente potrebbe no dirmi io voglio arrivare ai quarantenni con un certo reddito. Ma in realtà dipende perché possiamo a quel punto anche cambiare target, rivolgerci ad esempio a giovani studenti che vogliono risparmiare. Poi decidiamo insieme, si decide il target e si fanno format in virtù di quel target. Se un bar vuole più ragazzi studenti è chiaro che io ti vado a fare un format giovanile fresco con delle facce fresche. Però ti faccio un esempio, togliendoci da questo aspetto digitale aziendale che è molto complesso, perché poi l'azienda deve mantenere una certa immagine. Infatti ti sto ascoltando in silenzio perché è interessantissimo. Si, 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 ma si vede che ne sai. Ma poi no, è come si tratta all'inizio della domanda, cioè io veramente credo fortemente anch'io che il position in digitale oggi è fondamentale. Quello ha detto lui che TikTok è la piattaforma perfetta per costruirsi… Non per mantenerti, ma per costruirti. Per iniziare. Per partire. Esatto, per fare le colonne. Poi ti dico, guarda, lavoriamo su… vi faccio un esempio su di me, su Lollo Playboy, che è l'ultimo format di Lollo Baroque. Ecco, noi abbiamo etichettato tutti i format, ne ho fatti tre. Lollo Baroque il principe, accostato a TriFinance. Lollo il rebby con mia sorella, anche quello studiato. E Lollo Playboy. Tre mesi in cui volevo smettere, perché già facevamo gestione digitale in qualche modo, in maniera molto amichevole, ok? E ho detto, ma che cavolo sto facendo qua su questa piattaforma, che tra l'altro veramente poi a un certo punto dico, ma cazzo, ma questi mi parlano, pensano che io sia uno stupido, cavolo. Cioè, purtroppo sono andato incontro e vado incontro a questo, ma è una mia scelta, l'ho fatto io. Allora, ti dico, un giorno, parlando con Federico Barengo, persona che saluto e di grande competenza, mi dice, Lollo, ma tu non devi mollare, sei in gamba. Prova, ti cedo quanto costa il tuo outfit. Io ho detto, no, 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 non potrei mai prenderlo, non so se ricordate il format. Sì, sì, certo. Poi vado in Duomo, lo provo a fare, questa ragazza mi dice, cavolo, con quest'outfit uscirei con te? Mi fermo. Alt. Alt, dico, ma sai che c'è? Faccio Lollo Playboy, tu mi vedi così, usciamo insieme a cena, abbia fatto 75 milioni e contratti con dei brand importanti. Cioè, vedi, a me non interessa la storia dei gnocchi al sugo, oggi sono a Tenerifea, ma io metto storie che mi interessano, ma neanche con mia madre o con la mia fidanzata non le metto, perché non mi interessa, io non voglio fare l'influencer, ok? Io voglio, io, quando mi dicono, ma quanti follower hai su Instagram? Ah, pensavo di più. Ma snoba, perché il mio percorso è su TikTok a livello di posizionamento. Instagram ad oggi non mi serve, se domani voglio vendere un prodotto su Instagram, troverò il modo per arrivare a 400 mila. Poi non sei uno che pubblica vita privata, se pubblica un contenuto è proprio ai fini commerciali e basta. Ai fini commerciali. E non mi vergogna dirlo perché, attenzione. No, no, bravo. No, no, ma è giusto. Va benissimo. Noi siamo indipendenti, ma tutti... Non c'è nessuna vergogna. Tutti i tiktoker, ragazzi, no, tutti, alcuni che conosco, cavolo, fanno finta di essere poveri, perché l'agenzia dice non comprarti quella scarpa che se no il pubblico ti riconosce come a reddito elevato. Ragazzi, io ho sentito queste cose, eh. Ci sono dei tiktoker, ragazzi, che guadagnano una muccia di soldi, ma non perché fanno i tiktok, perché hanno dei contratti commerciali foltissimi e non lo dicono. Oppure fanno finta di fare la sponsor come se gli piacesse davvero quel vestito. Cavolo, ma a me che me ne frega? Io sto sponsorizzando un brand perché la strategia commerciale che ho utilizzato fa milioni di visualizzazioni. Se domani finisce Lolloplayboy, ne trovo un'altra per sponsorizzare Sony. Questo è il mio lavoro. Perché devo fingere? Certo, certo. Faccio altro, no? Certo. Forse la cosa difficile è anche proprio quella, magari perché un format spesso non può avere vita infinita, quindi bisogna sempre reinventarsi, trovare nuove idee, però ovviamente lì entra in gioco la creatività. Senti, Lolloplay ti volevo chiedere una cosa. Ah, senta, parlando del format, qual è il ciclo di vita di un format? Perché se no tornavo indietro poi la gente... Mi interessa questo discorso perché vedo tipo Donato che ha sempre lo stesso format da un anno e mezzo, due anni e funziona sempre. Vedo persone che dopo tre mesi se continuano lo stesso format poi iniziano a calare. Cioè come... Bellissimo questa domanda. Vuoi sapere che noi a livello di ufficio abbiamo disegnato un ciclo di vita del format? se vuoi te lo disegno sulla... Ah, vai, ok. Che in realtà è simile al ciclo di vita di un prodotto, no? Che si studia in economia. La cosa che cambia è questa. Guarda, vi faccio vedere. Adesso poi se lo volete far vedere in camera. Allora, noi lo disegniamo con due assi. Cioè, in realtà c'è uno studio dietro. Certo. Cioè, quindi insomma, anche per dire... Allora... Viralità a tempo. Bravissimo. Viralità a tempo. E che parli al guardi. Ok, attenzione. Questa prima fase qui si chiama fase di testing, ok? Una prima fase che ha un tempo X. è importante metterla con viralità pari a zero perché anche se in quel periodo di testing fai 200.000 visual, a noi non interessa, non test. Sai quanti ragazzi hanno... I ragazzi della scuola, del liceo che fanno il video con la professoressa fa 300.000, ma mica ti stai posizionando. Grazie. Quindi qui non mi interessa. E poi... Aspetta, ti faccio il video così si mette in post-produzione. Sì, sì. Dai. No, ma di tanto si fa vedere dove si gira... Guarda, da questa fase di testing inizia un percorso che cresce lentamente, arriva ad una fase di maturità e poi ad una fase di obsolescenza. Allora, questo qui è il lancio. Qua capisci che puoi toccare terreno. Siamo nella fase di Agostino Ricotta adesso. Ci stiamo lanciando. Quindi più o meno si parla di... Si parla al numero di views, no? Più che riguarda la viralità magari. Risposta di commenti, attenzione effettiva al personaggio. Engagement. Poi c'è una fase di crescita che è per capirci la fase di donato da quando l'hanno cominciato a conoscere tutti fino a quando gli hanno bloccato il profilo. Ve lo ricordate? Prima del licenziamento o la dimissione dai Montelattari. Adesso non ricordo. Ho cercato di studiare. Poi c'è una fase di maturità che in realtà io l'etichetto come si funziona, faccio 100.000 oggi, 60.000 domani, 200.000 dopodomani, 2.000 visual. Non ho più una fase di crescita o di potenza, di attenzione su di me. Poi ti accorgi la maturità e l'obsolescenza è molto simile, l'obsolescenza è quando non hai più numeri. A questo punto qua bisogna cambiare. Qua o cambi format e quindi rinasci con lo stesso percorso e fai un'innovazione radicale a livello economico come posso dirti dalla carrozza alla macchina. Oppure fai come ha fatto Donato. Un'innovazione incrementale. È arrivato Steven, è arrivato un nuovo locale, quindi lo stesso format modificato a livello di visione e risale l'hype. E risale l'hype. Questo è il ciclo di vita. Attenzione, chi pensa che un format è per sempre prende depressioni da social network. Questa bella consulenza. Un applauso a loro. Grazie mille. 5.000 euro di fattura ve le lascio poi. Facciamo un esempio. Tipo quello che fa ciao user Lo conosco Mattia, bravissimo. Lui deve rinventare. Stai continuando all'infinito a fare questo format, no? Quello che fa ciao user ma chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto? Ok. Uguale l'ho fatto. Lui sta continuando all'infinito, sta sbagliando o no? Dovrei chiamarlo. Ma qual è il tuo obiettivo di lungo periodo? Non ce l'ho, voglio cavalcare l'onda. Bene, allora stai facendo bene. Non so qual è l'obiettivo. Potrebbe anche voler arrivare in tv. Continua, fa il contratto con la tv alle Iene. Qualsiasi cosa. Cioè ecco, dipende se il fine è commerciale. Donato comunque adesso a un'impresa. Certo. Donato. Se posso permettermi, infamatemi, siamo interrotto. No, certo. Non sono riusciti a fare quei ragazzi di Duracell. Quello che fischiava. Lo ricordi? Bravissimo, cavolo. E però attenzione. attenzione. Cioè loro bomba, ora basta. mi fanno sempre buoni. Io se lo rivedo. Perché ando in ciclare sui personaggi. Allora, allora, il problema è questo. Il trash ha un problema. Lollo Barocchi, il principe era un personaggio trash. Adesso è così. Però tocca capire dietro quel trash che mentalità c'è. Vi faccio un esempio. Il trash, se rimane trash e sono persone che giustamente non conoscono il digitale, a me fanno morire ragazzi di Duracell. Che anziano i ragazzi. Sì, ora un po' meno. Mi fanno morire. Il problema qual è? è che però lì dietro non crede. Se ci fosse un manager che in qualche modo dice ragazzi è finita questa era. Adesso andiamo a fare gli scherzi telefonici. Frank Matano. Frank Matano. Partito da lì. Ma ecco, un esempio ancora più lampante. I The Show ragazzi. I The Show. Veramente facevano, andavano a fare le scorreggie sulle persone. Come Frank Matano ma dando proprio fastidio. Frank Matano hanno creato per esempio un format vincente che è detto fatto perché vincente e sarà vincente per sempre anche se qualcuno casomai non vede più The Show ma è vincente perché c'è l'interazione con persone sempre diverse. Anche Lollo Playboy. Lollo Playboy, io ho fatto, adesso ho detto un numero prima però mentre lo dicevo ho paura che non siano i numeri esatti. Comunque sto sulle 70 milioni di visualizzazioni con pochissimi video. domani metto un video mi fa 10k di visualizzazioni ma non è che io mi metto a piangere oddio. No, il mio format è questo. Lo continuo perché ci saranno sempre interazioni diverse. Il mio obiettivo è i fini commerciali. Il problema più grande è capire che cosa vuoi raggiungere tu. Una Rita De Crescens una persona che io ho visto tante critiche invece io in qualche modo stimo perché si è ripresa in mano una vita che probabilmente aveva perso quindi per me cioè cavolo lei ha annunciato che faceva una vita insomma non perfettamente legale e adesso fa ha trovato il suo percorso lei vuole fare quello lei si diverte e se ti diverti va bene così chiaro che se io che voglio fare impresa avessi continuato con il principe e beh a quel punto c'è qualcosa che non va perché non puoi posizionarti cioè io sto cercando di pulire il mio personaggio questa cosa che non dovrei dire ma con Lollo e Rebbi ho tolto la vocina del principe con Lollo Playboy ho messo in gioco brand ad alta moda per cercare di far capire guarda che io conosco anche queste cose però ci vuole tempo come dicevamo prima io non posso passare da Lollo Barocchi il principe a fare l'intellettuale che ti parla di Schopenhauer Platone ed Eraclito mi spuderebbero in bocca quindi dico non sta sbagliando Mattia stava cavalcando l'onda poi un giorno cambierà anche Francesca Mara no? ah sì sì la lupa la lupa lei si divertiva però non tutti nascono col fine commerciale questo va chiarito io sono nato così la lupa si diverte io quando vedo i video vedo che lei ci tiene proprio ci piace lei è andata alle iene ora tra l'altro ho visto ho visto una storia sì è vero spesso e volentieri per cause banali guarda Gigi Pescheria Gigi Pescheria esatto